Un morto e un militare ferito e il bilancio di un blitz antidroga finito in tragedia ieri sera ad Alba Adriatica, la vittima, si chiamava Kim Haidi, 37enne tunisino, deceduto per un colpo di pistola sparato accidentalmente da un carabiniere. Secondo una prima ricostruzione, l'extracomunitario intendeva aggredire con un coltello il militare, che nel tentativo di difendersi ha mirato le gambe, recidendo però la orta femorale dell'uomo. Il tunisino, disoccupato, in regola con il permesso di soggiorno, da qualche anno era residente sulla costa teramana, in un palazzo di 56 appartamenti sul lungomare di Alba Adriatica, dove da parte dei militari del nucleo operativo e radiomobile della locale stazione, successivamente ad una soffiata, è scattato il blitz antidroga, con il successivo tragico epilogo. Intorno alle 16.30 due militari hanno fatto eruzione nell'appartamento, ad attenderli hanno trovato l'uomo armato di coltello, che alla loro vista, e con l'uscio semi aperto, ha iniziato a sferrare e fendenti, cercando di respingere con il corpo, l'apertura della porta d'ingresso, mentre i militari tentavano di entrare. Poi, l'improvviso colpo di pistola, esploso dall'alto verso il basso, che ha attraversato il portone e colpito l'uomo nella zona interna della coscia destra, centrando l'arteria femorale e facendolo morire dissanguato in pochi istanti. Nella casa in cui abitava la vittima, i militari hanno trovato 150 grammi di roina, che era con lui, molto probabilmente un connazionale, è riuscito a scappare. Si aspettano ora i risultati degli accertamenti balistici, anche se un elemento di chiarezza arriva dal primo esame sul corpo fatto dall'anatomopatologo Giuseppe Sciarra, che conferma la morte per dissanguamento e la traiettoria del colpo sparato dall'alto verso il basso. Ed è questo il primo punto di partenza del fascicolo aperto dal PM Davide Rosati, che dopo essere stato nell'appartamento, è rimasto fino a tardasera nella caserma di Alba, dove ha sentito il brigadiere che ha sparato, il collega di pattuglia e gli altri che stavano lavorando all'indagine antidroga. Secondo le ultime indiscrezioni, il brigadiere avrebbe agito per legittima difesa. E' quanto trapela dagli ambienti investigativi in questa prima fase della ricostruzione dell'accaduto. Infatti, la traiettoria del colpo dimostrerebbe come il militare, nonostante la vittima gli si avvicinasse per dare fendenti con un coltello da cucina, abbia sparato in direzione dei piedi per far indietreggiare l'aggressore.